Quindi è un combattimento in un'arena che volete? E allora un combattimento in un'arena avrete! Dai, facciamogli il culo! Certo, come tutti quelli cui ho fatto il culo poco fa! Oh, ma guarda, un cavallo! Tanto proiettili infiniti, puoi scappare quanto vuoi! Aia! Eh no! Eh dai! Dai! Dai, vieni qua! Dai! Eh vabbè, sto un po' cazzeggiando io con te! Stavo un po' cazzeggiando con questo, spero si fosse capito! Chissà perché non mi aspettavo certo un combattimento onorevole! Eh, immagino! Solo se riuscirete ad uccidermi! Bastardo! Ehi, stavo caricando il mio attacco! Infame! Un po' di rispetto per l'arte! Vieni qua! Sacate! Ma va? L'avete capito ora! Nooo, povero cavallo! È morto? Credo di sì! Povero cavallino! Ah, pure le colonne di fuoco ora abbiamo, eh! Bastardo! Colpito e affondato! Aspetta! Vieni qua che non riesco a prenderti! Aspetta! Non vedo! Eccolo! Grazie! Ah! Lo sapevo che ti facevi prendere dal fuoco! Coglione! Ok! Altro cavallo crepato! Ah, ma c'è una cesta di vita qua! Aspetta! Grazie! E chi l'aveva vista? Ah, eccolo qua! Il nemico grosso! Ti pareva che non arrivava! Due addirittura! Fantastico! Aspetta! Avessi la mia forma del caos adesso vedresti! Se non fosse che sono caduto nell'oblio l'altra volta... Ahia, che male! Vieni qua! Oh, oh, oh! Nemico! Molto! Devo farle ogni volta queste azioni perché poi mi ridanno un sacco di punti! Oh, c'è da dire che siamo migliorati un sacco! L'altra volta per fare fuori questo nemico ci abbiamo messo molto di più! Che tra l'altro erano due! Che fine ha fatto l'altro, scusami! Ah, eccolo là in fondo! Scusa un attimo! Perché sta combattendo con uno dei suoi? A caso? Totalmente? Cioè, io lo so che questo qua combatte contro qualsiasi cosa... Ma perché lo sta attaccando? Vabbè, io continuo a indebolirti intanto, eh! Voi fate pure, eh! Divertitevi! Vabbè, bastardo! Dai! Vieni! Forza, vieni bello! Zacchetevi al braccetto! C'ho l'ho caltro anche sotto il mento! Beh, qualcun altro vuole venire qui? Si vede che non avete imparato nulla! Dov'è il prossimo? Oh, ma guarda che bel cavalluccio! Quello è bravo! Quello è bravo! Quello vince! Quello vince sicuro! E tu sembri troppo stronzo dall'assù! E quando ti ucciderò! Vediamo come ti comporti, cavaliere! Con solo due gambe a sorreggerti! Vedremo quando tu non ne avrai nessuna! Quando ti avrò tagliato a metà! Oh, ma guarda! Resiste ai colpi di... Ai colpi di fuoco! Ahia, che dolore! Mi ha fatto un counter! Allora, aspetta! Ah, resiste a qualsiasi colpo da lancio! Benissimo! Eh, niente! A te... Eh, lo sapevo! Vieni qua! Sacchete! Pugno in faccia! Cos'è successo? Cos'è quella palla blu che mi è arrivata dietro? Dai! Colpisci! Vorrei riuscire a fare una parata perfetta! Eh, però non riesco mai! Allora, io intanto mi curo! Sei una voglia in quale è giusto! Dai! Non riuscirò mai a fare una parata perfetta in questo gioco! A parte quanta vita ha tolto e sinceramente ho sbagliato io qua! Però non riuscirò mai a fare una parata perfetta in questo gioco! No! Di nuovo tutto il combattimento! No, però! Eccolo qua! Di nuovo giù dal cavallo! E via combattimento di spada! Aia! Mi ha colpito! Eh, ma non riesco a sfuggire al colpo di fuoco lì, eh! Vabbè, hai rotto le palle! Vieni qua! Eh, va bene! L'ho sprecatissima probabilmente, ma va bene così! Mi va bene uguale! Eh, che cosa ti avevo detto! Chi si sorregge ora su due gambe? Eh, stronzo! L'ho sprecatissima l'ho sprecatissima l'Eylira, lo so! Ma va bene così! Non me ne frega niente! Dove è andato il cavallo? Dove è andato il cavallo? Ha detto basta! Smettila! Rovina! Non ti combatterò! Oh, hai ritrovato il cavalluccio! Eccolo qui il mio padrone! Eccolo qui il mio padrone! Bentornato a casa, rovina! Grazie padrone di avermi aspettato! No, andiamo tutti a prenderlo il culo! Forza! Non ti stai divertendo? Il più sono loro che non capiscono quando smetterla, forse! Forse dovrebbero imparare a smetterla! Allora, rovina! Guerra e rovina sono di nuovo insieme! Oh! Mentre cavalli rovina gli attacchi diventano molto potenti! Premi L1 per evocare il congede rovina! Ok! Però non posso... Proviamo, scusa un attimo! Posso lanciare il chakra? No! Posso solo sparare! Certo che la gente non impara mai dei propri errori, eh! Ah già, ma queste non sono persone! Sono demoni! No! Voglio continuare a combatterli! Questo è vero! E allora, proseguiamo! Vorrei prima di andare riuscire a trovare... Magari un'altra cesta di vita! Guarda, ad esempio questa l'avremmo probabilmente saltata perché saremmo andati troppo veloci! Qua c'è una cesta gialla, perfetto! E nella zona che abbiamo superato l'altra volta, ecco di nuovo qui una cesta verde! Visto che avevo fatto bene a lasciarne un paio indietro! Un paio nel vero senso della parola, ne avevo lasciate proprio due! Va bene Stijan! Sto arrivando! Sto arrivando!